Gli interventi programmati si effettueranno, questo ce lo può confermare, e poi bisogna sperare nel Ministro Speranza? Io non so se bisogna sperare nel Ministro Speranza. Io spero che la comunità scientifica dia i suggerimenti necessari per fissare, perché a noi interessa sicurezza delle cure, essere trattate nella maniera più moderna, e poi se questo si raggiunge al 500 o al 250 ha poca importanza. Quando sembrava tornato il sereno, anche se a tempo, sul servizio di senologia dell'ospedale di Sernia, ecco che viene sganciata la bomba. Dopo l'ok e gli interventi programmati, ma solo fino al varo del nuovo POS, le parole rilasciate ai microfoni di Teleregione dal direttore sanitario, che ora svolge funzioni anche di direttore generale dell'ASREM, Antonio Lucchetti, rischiano di far insorgere nuovamente comitati e cittadini, e al contempo aprono una finestra sugli accertamenti che la stessa azienda sta compiendo. Incalzato dalle domande del direttore Pierluigi Boragine, Lucchetti chiarisce che il futuro del servizio, e anche la situazione attuale, risiedono nei criteri stabiliti dal tavolo scientifico centrale. Tradotto vuol dire che i numeri non sono dalla parte di senologia, perché, afferma sempre il manager, nel computo degli interventi che garantiscono la sopravvivenza del servizio, vanno inseriti quelli più complessi. Il Presidente della Regione ha detto, io non so se lì si sia mai operato, invece si è operato da tantissimo. Come è stato possibile operare dove formalmente non era possibile farlo? Vede, quando lei va in un reparto chirurgico, vede un'organizzazione basata su un primario, che ha la responsabilità tecnico-scientifica, ha strutturato un percorso per cui, se un detto tipo di intervento ha bisogno di consulenze specialistiche, oltraspecialistiche, le programma prima di aprire l'equip. Io non credo che eravamo in queste condizioni. Sì, sicuramente hanno operato, non lo metto in dubbio. Probabilmente sono anche bravi i professionisti, sicuramente lo sono, e quando operano noi li vogliamo in una condizione di sicurezza, con tutte le specialità, con le indicazioni del documento della conferenza Stato-Regioni, che prevede la centralizzazione dei pazienti affinché si raggiunga almeno 150 interventi. Quando si parla di 150 interventi, non si parla di agopiopsie, si parla di 100 interventi, di mastectomia o di quadrandectomia. Non si può dire 100 interventi mettendo una serie di cose, perché poi non risultano dai DRG. Infine, la trasparenza. Anche in merito a questo, il direttore sanitario ha qualcosa da ridire sulla gestione degli interventi programmati e su come sono stati comunicati all'azienda. Quindi si è operato in sicurezza o no? Questo non lo so, io non c'ero, voglio dire, e non c'ero in sala operatoria. Chiaramente nella circolare diremmo al direttore sanitario e al direttore della struttura semplice dipartimentale di assicurare, almeno perché noi non abbiamo voluto interrompere un percorso assistenziale, perché noi siamo stati chiari sulla condizione. Quindi se il paziente vuole andare a operare, ha avuto un percorso già assistenziale, lì abbiamo detto esauriamo, ma sono 14 persone. Questa è la vista operatoria. Tra l'altro c'era l'obbligo di alimentare il sistema ATP, che è il sistema di trasparenza delle prenotazioni, dove abbiamo trovato di questi 14 solo 3. Gli altri abbiamo dovuto avere stesi su carta, su mio richieste. Grazie. Grazie. Grazie.